Ciao ragazzi e benvenuti sul canale della marmotta stufi della solita antenna vecchio stile allora oggi andremo a vedere come installare questo bello oggettino qui adattabile per tutte le auto senza nessun problema senza forare il tetto senza fare niente andiamo a 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 adesso ovviamente prima del fissaggio una bella lavata a 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